Le epatiti B e C, diffusissime nel nostro paese, anche nel nostro paese, soprattutto negli anni 70-80, c'è stata in Italia una vera e propria epidemia di queste epatiti. Molte persone hanno queste epatiti ma non sanno di averle. Il professor Sergio Morini, gastroenterologo all'ospedale Nuovo Regina Margherita di Roma. Com'è possibile che molte persone non sappiano di aver avuto e di avere queste epatiti? Nella gran parte dei casi le sofferenze del fegato, di natura epatitica o no, decorrono senza sintomi. Tutto questo anche per decenni finché le condizioni del fegato non arrivano a dare dei segni di tipo generale. Quindi non sanno di averle, non provano dolore? Non c'è nessun dolore né altri sintomi nelle fasi iniziali. L'unico modo per scoprirlo è di fare delle indagini di laboratorio. Quali indagini? In particolare le transaminasi che rappresentano il segno del danno della cellula del fegato. Oppure i markers, vale a dire i marcatori del virus B o del virus C. Cosa sono le transaminasi? Le transaminasi sono degli enzimi che si trovano all'interno della cellula e che nel caso di danneggiamento fuoriescono e circolano nel sangue. In questo caso noi li possiamo individuare. Cosa deve fare la persona che trova le transaminasi mosse, alte? Beh, credo che in primo luogo debba seguire il consiglio del suo medico generico di rivolgersi ad uno specialista. Perché sarà importante individuare la certezza del virus alle spalle di questo movimento di transaminasi e iniziare la terapia antivirale. Questo è molto importante perché altrimenti l'epatite cronica può trasformarsi in cirrosi e la cirrosi può trasformarsi in un cancro del fegato.